Il svegliato mancava 10 minuti alle 2. Sembra non trovare fine la lunga scia di atti vandalici messi a segno a Clusone da alcuni giovani. Ultimo in ordine di tempo nella notte tra venerdì e sabato alle Fiorine. Il fatto è successo pochi minuti prima dell'1.30 quando un gruppetto di giovani di età tra i 20 e i 25 anni, dopo essersi procurati un varco nella recinzione in legno, si sono introdotti all'interno dello stabile dell'ex giudice di pace, dove stando ad alcune indiscrezioni pare abbiano danneggiato i locali interni recentemente ristrutturati. L'edificio era divenuto dallo scorso mese di gennaio sede del centro socioeducativo di Clusone, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale che molto si è battuta con i sindaci della zona per portare a compimento i lavori di ristrutturazione, resi possibile grazie alla determinazione del locale gruppo Alpini, dei volontari e delle aziende del territorio. Un gesto vergognoso che ha visto la mano di cinque ragazzi residenti a Clusone, alle Fiorine e a Vilminole di Scalve, arrestati dalle forze dell'ordine durante la notte. Sono stati alcuni residenti della zona svegliati dal frastuono causato ad avvertire i carabinieri. L'azione del branco ha creato danni anche a una vettura parcheggiata nel cortile interno all'abitazione confinante, i cui proprietari sono stati svegliati dal frastuono del parabrezza mandato in frantumi da un palo in ferro. Il fatto fa seguito ad altre situazioni analoghe, ultima in ordine di tempo, la distruzione di due speed check, uno in via San Defendente, l'altro ancora una volta in via Fiorine.